Siamo andati sotto però penso che siamo partiti anche bene, abbiamo preso due gol su due errori nostri, poi ci siamo ripresi nel secondo, anche se secondo me forse il secondo abbiamo lasciato troppe occasioni a loro. E poi il terzo abbiamo provato a gestirla, poi penalità stupida, una penalità mia stupida, l'ha rimessa in partita, però l'importante era portare a casa i tre punti sia per l'Alps che per il campionato italiano.